Buongiorno, oggi vediamo alcune questioni che possono creare del problematico, dei dubbi in fase di concorso e in fase poi di operazioni come agente di polizia. Questioni in merito all'applicazione del codice della strada, all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione. In particolare alcuni casi in cui possono sorgere dubbi in merito a chi intestare il verbale, a chi è diretta la sanzione, quindi chi è tenuto a rispondere nei casi dubbi di solidarietà e altre problematiche di questo genere. Abbiamo l'ipotesi del minorenne che viene fermato alla guida di un ciclomotore o di una velocipede oppure semplicemente sta circolando sulla strada a piedi, ad esempio guidando animali. In tutti questi casi il minorenne è legittimamente utente della strada. Mettiamo il caso in cui sia titolare di una patente per la guida dei ciclomotori e commetta delle violazioni. Il minorenne è o non è responsabile per la violazione di queste norme, quindi possiamo combinare a lui le sanzioni e solidarmente ai genitori, oppure non è responsabile e non possiamo nemmeno combinargli le sanzioni. Il codice della strada non specifica nulla in merito, ma la norma generale che rinvia alla 689 per l'applicazione delle sanzioni ci rimanda all'articolo 2, tra gli altri articoli a cui rimanda, che prevede la capacità di intendere e di volere per combinare una sanzione ad una persona. In particolare l'articolo 2 ci dice che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento della commissione del fatto non aveva compiuto 18 anni o non aveva in base ai criteri del codice penale la capacità di intendere e di volere. Chi non aveva compiuto 18 anni non è assoggettabile a sanzione amministrativa. E sottolineiamo sanzione amministrativa perché nel caso in cui invece il minorenne si rende responsabile di un fatto che costituisce reato si applicheranno i criteri del codice penale e del codice di procedura penale per cui l'imputabilità nasce, inizia a 14 anni. Qui siamo in ambito amministrativo. In ambito amministrativo applichiamo questo articolo 2 del codice della legge 689 per cui non sarà imputabile il minorenne. Per cui il verbale dovrà essere notificato direttamente ai genitori. Sono loro i trasgressori che avevano un dovere di vigilanza in capo al minorenne. E quindi sono loro che sono tenuti al pagamento, sono responsabili della violazione. Non è un'ipotesi di irresponsabilità solidale per cui non applichiamo l'articolo 6 della legge 689 e tantomeno l'articolo 196 del codice della strada. Ma andiamo ad applicare l'articolo 2 della legge 689. L'istituto della solidarietà invece è proprio quell'istituto che è disciplinato dall'articolo 6 della legge 689 e dall'articolo 196 del codice della strada. A volte può creare della confusione e può confondersi con il concorso nell'illecito. E' molto semplice da comprendere e da applicare l'istituto della solidarietà se noi andiamo a comprendere la sua razio. Cioè l'istituto della solidarietà risponde ad un'esigenza di solvibilità, cioè va a garantire il pagamento della sanzione pecuniaria. E lo fa andando a coinvolgere nel pagamento di questa sanzione anche persone che hanno dei legami o con l'oggetto che è stato utilizzato per commettere la violazione oppure con la persona che ha commesso la violazione. In questi casi quindi si parla di responsabilità oggettiva e sempre nell'ottica di funzione generale preventiva e speciale preventiva della sanzione amministrativa, l'istituto della solidarietà va a coinvolgere anche colui che ad esempio è il proprietario della cosa che viene utilizzata per commettere la violazione, ad esempio del veicolo oppure ha un rapporto con la persona, va a rafforzare il ruolo di prevenzione, cioè io che presto la macchina a mia sorella per guidare, le faccio magari delle raccomandazioni prima di prestare la macchina o mi accerto che è una persona che mediamente usa la dirigenza necessaria per rispettare le norme. Quindi ha un significato sì di garantire il pagamento dell'obbligazione ma anche ha il significato di rafforzare la prevenzione degli illeciti. Non per forza c'è un obbligato insolido, è possibile che ci sia un obbligato insolido, devo andarlo a verificare di volta in volta. Se il trasgressore e l'obbligato insolido sono la stessa persona, cioè chi guida il veicolo non è anche il proprietario, non vado a notificare più verbali, ma ne notifico uno solo, l'obbligato insolido in questo caso non c'è. Questo può succedere nei casi in cui si utilizzano dei modelli prestampati e è in automatico inserito la figura dell'obbligato insolido. Se chi il trasgressore è è il proprietario del veicolo, io non compilo la parte in merito dell'obbligato insolido e quindi consegnerò un'unica copia di verbale al trasgressore che è anche proprietario. Non devo dire che il trasgressore, il proprietario, il trasgressore è anche obbligato insolido, perché non esiste in quel caso l'obbligato insolido. Può, in alcune trasgressioni può esserci, in altre no, devo andarlo a verificare. Se non c'è, lascio in bianco la parte in merito all'obbligato insolido. Cosa significa che più persone sono ottenute al pagamento di una sola sanzione? Significa che la sanzione è unica, che la paghi una persona piuttosto che l'altra. È indifferente per l'amministrazione, conta che pervenga quella pagamento. Nel caso in cui entrambe le persone provvedono al pagamento della sanzione, io devo considerare quella che è pervenuta per prima, perché il pagamento della sanzione estingue l'obbligazione, l'obbligazione cioè il dovere di pagare. Quindi la sanzione che viene pagata per seconda è una sanzione che in realtà non è più dovuta e quindi l'amministrazione sarà ottenuta a restituire i soldi. Nel caso di morte dell'obbligato insolido, la sanzione è comunque dovuta dal trasgressore, perché è al trasgressore che fa capo l'illecito. Quindi il trasgressore ha commesso l'illecito e per questo gli viene combinata la sanzione. L'obbligato insolito viene coinvolto solo per il pagamento della sanzione, non diventa anche lui responsabile dell'illecito, è solo responsabile per il pagamento della sanzione. Quindi nel caso in cui l'obbligato insolido venga meno, la sanzione rimane in capo al trasgressore. Viceversa, se invece muore il trasgressore, che è la fonte dell'obbligazione, perché è fonte dell'illecito e da quell'illecito nasce l'obbligazione pecuniaria della sanzione pecuniaria, allora il trasgressore non è più tenuto al pagamento di quell'obbligazione, perché non sussiste più, si estingue il rea, scusate l'illecito, una delle cause di estinzione dell'illecito è la morte del trasgressore. E quindi in quel caso l'obbligato insolido non sarà tenuto a pagare. Abbiamo detto che spesso l'obbligato insolido viene confuso con il concorrente nella violazione. Il concorrente nella violazione è una persona che ha una responsabilità soggettiva. Cosa significa responsabilità soggettiva? Significa che c'è l'elemento soggettivo che fa capo al concorrente nella violazione. Quindi colui che è concorrente nell'obbligazione ha commesso, ha contribuito al realizzarsi della violazione con dolo o colpa. Cosa che invece non c'è in capo all'obbligato insolido. L'obbligato insolido è detto responsabile oggettivo, perché la legge ha previsto che ci sia un legame appunto oggettivo tra l'obbligato insolido e il trasgressore e che in capo all'obbligato insolido non debba sussistere l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Cosa che deve invece sussistere in capo al concorrente. Per cui nel caso in cui due persone stanno circolando sulla stessa vettura e con questa vettura commettono degli illeciti previsti dal codice della strada saranno entrambi responsabili, saranno concorrenti nell'illecito amministrativo se in capo ad entrambe le persone sussiste l'elemento soggettivo cioè se l'hanno commesso con dolo o con colpa sicuramente si concorre nel reato nel caso di guida accompagnata cioè quando il 17enne viene autorizzato ad esercitarsi alla guida con la presenza di una persona che è titolare di patente B da più di 10 anni e oltre ad essere ovviamente maggiore di 18 anni e quindi in questo caso entrambe le persone hanno la responsabilità e hanno l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. In questo caso le sanzioni sono due non è unica la sanzione nell'obbligato insolido la sanzione è unica nel caso di concorso invece le sanzioni sono due e il trasgressore è dovuto pagare la sua sanzione mentre il concorrente è dovuto pagare un'altra sanzione le due sanzioni sono autonome se il trasgressore paga il concorrente, il passeggero che ha concorso nel realizzare una determinata violazione anche lui rimane tenuto al pagamento della sua sanzione perché sono due e sono distinte per cui dovrò redigere tanti verbali quanti sono i concorrenti nella violazione e nel caso in cui il trasgressore e concorrente propongano un ricorso o non paghino entro i 60 giorni la loro obbligazione non paghino la sanzione si applicherà una sanzione che non sarà più scontata in base all'articolo 11 del codice della strada ed è possibile quindi pervenire a due sanzioni di importo diverso perché nell'articolo 11 della 689 scusate prima del codice della strada ma intendevo 689 si tiene conto della personalità del trasgressore in questo caso i trasgressori sono due o più di due e ognuno è titolare di una autonoma sanzione nell'applicare questa sanzione quindi si tiene conto della personalità del trasgressore quindi si potrà arrivare ad avere importi di sanzione differenti per i vari concorrenti nell'illecito significa che se due persone hanno commesso delle violazioni al codice della strada e sono concorrenti nei confronti di questa violazione ce l'hanno concorsa insieme tutte e due hanno dato un apporto alla realizzazione della violazione una di queste però ha già commesso tre o quattro violazioni dello stesso genere o specie nei cinque anni precedenti non negli ultimi due l'altra persona è la prima volta che invece commette questa violazione e questa persona si è anche prodigata per contenere i danni ad esempio ha segnalato la presenza del veicolo sulla strada ha cercato di spostare il veicolo in modo che la circolazione potesse continuare l'altra invece non ha fatto nulla questa persona vedrà verosimilmente una sanzione inferiore rispetto a quella dell'altra persona che non ha fatto nulla per contenere le conseguenze si era già reso autore di violazioni simili al codice della strada persona incapace di intendere di volere posso notificare un verbale nelle mani di una persona incapace di intendere di volere cosa significa? se una persona per cause a lui imputabili o non a lui imputabili è incapace di intendere di volere cioè è in stato di shock piuttosto che è in stato di ubriachezza a piedi ad esempio o alla guida di un velocipide non si configura l'ipotesi di reato io posso notificargli il verbale e ritenere valida questa notifica no perché una delle condizioni per la notifica è la capacità della persona che riceve il verbale per cui se io devo notificare cioè sto accertando l'illecito commesso da una persona che in quel momento non è capace di intendere di volere perché è sotto shock o perché è in stato di ebrezza lievi o per altri motivi che danno luogo a incapacità non gli devo consegnare il verbale perché è invalida quella notifica provvederò a notificare il verbale al domicilio o alla residenza in un momento differito e darò nota nel verbal della sua stato di incapacità per il quale non ho potuto eseguire subito la notifica nel caso in cui i motivi che non hanno consentito la contestazione immediata della violazione perché la persona era in stato di incapacità o per qualsiasi altro motivo rendono nulla la notificazione cioè se io mi vedo arrivare a casa la notifica di un verbale e nel verbale non è indicato il motivo per cui non mi hanno contestato contestualmente alla mia violazione il verbale posso impugnare il verbale e dire il verbale è nullo oppure posso non pagarlo perché tanto è nullo perché mancano questi motivi no la mancata indicazione dei motivi che non hanno consentito l'immediata contestazione della violazione non dà luogo alla nullità nullità il verbale è comunque valido e non è nemmeno annullabile è valido ed efficace pienamente potrò chiedere i motivi ma non potrò chiederle l'annullamento perché non è causa di annullamento questa mancata e se il trasgressore rifiuta di ricevere la notifica sul luogo della trasgressione piuttosto che al suo domicilio il postino arriva e gli vuole notificare la busta verde contenente il verbale ma la persona rifiuta la notifica è valida o non è valida se la persona è capace di intendere di volere in quel momento e sto provando a notificargli il verbale sia in maniera contestuale sia in maniera differita lui si rifiuta do atto nella relata di notifica piuttosto che nel verbale che la persona si rifiuta di ricevere il verbale e quindi il verbale e la notifica saranno validi ricordiamo che il verbale è un atto pubblico redato da un pubblico ufficiale e fa fede fino a quella di falso quindi se poi la persona il trasgressore vorrà dimostrare che in realtà il verbale non gli è stato notificato e non è vero che lui non ha accettato di riceverlo dovrà portare delle prove che vanno a confutare quanto scritto nel verbale non basta dire che non l'ho ricevuto ma deve portare ad esempio dei testimoni che dimostrino che quando il postino è arrivato lui non era a casa e non è vero che ha rifiutato di riceverlo il verbale allo stesso modo dovrà portare dei testimoni che erano presenti al momento della violazione che confermino che il verbale non gli è stato consegnato e lui non è vero che ha detto no non voglio ricevere il verbale articolo 385 regolamento d'esecuzione del codice della strada disciplina la contestazione e dice che contestazione e accertamento devono essere svolti dallo stesso organo attenzione che parla di organo non di agente ciò significa che se il sorpasso vietato è stato accertato dalla pattuglia della polizia stradale specialità della polizia di stato poi non potrà essere redatto verbale dall'arma dei carabinieri o dalla polizia locale dovrà essere redatto dallo stesso organo quindi da uno degli agenti o d'ufficiali della polizia di stato nella specialità polizia di polizia stradale quindi dovrà sostanzialmente essere redatto da un agente o da un ufficiale che appartiene allo stesso ufficio dell'organo accertatore quindi non rileva la persona fisica ma l'organo che accerta una violazione vi lascio le informazioni di contatto se volete chiedere ulteriori chiarimenti argomenti che volete approfondire se volete porre dei quesiti in merito a quanto esposto rimane sempre la possibilità di commentare qui sotto chiedendo spiegazioni o ulteriori approfondimenti di Grazie a tutti